Anche noi saliamo sul dinosauro di Franci, anch'io salgo sul dinosauro di Franci, anch'io salgo sul dinosauro di Franci, anch'io. Francesco parlava con gli occhi e adorava il suo dinosauro verde. Abbiamo scoperto tre mesi dalla nascita che era affetto da una malattia rara, bricogenosi tipo 2. Quando Francesco è volato in cielo aveva soltanto 11 anni. Vogliamo che in futuro questi bambini abbiano una vita più lunga e migliore. Per questo è nato il progetto Rari come Franci, per questo abbiamo lanciato un crowdfunding. Queste malattie non erano curabili fino a pochi anni fa. Dobbiamo ora affinare le cure, cercare di anticipare i tempi della diagnosi dei bambini con queste malattie, sviluppare delle terapie innovative che siano a disposizione non solo dei bambini con malattie rare. Vogliamo alzare il livello delle cure, rendere disponibili le conoscenze sulle malattie rare e avanzare lo sviluppo della ricerca internazionale. Salite anche voi sul dinosauro di Franci. Anch'io salgo 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 sul dinosauro di Franci. Anch'io. 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 Anch'io noi. Anch'io salgo sul dinosauro di Franci. Anch'io salgo sul dinosauro di Franci. Grazie.